ora tutte 25 tischerei e sì come dice Esther fa male anche parlare della situazione e infatti stamattina un'amica che vabbè adesso non entro in tutto ma va bene gli avevo proprio stamattina spiegato cosa che tanti non sanno perché in Israele da sempre quando ci sono attacchi terroristici e adesso come non mai e fanno sempre vedere la foto del terrorista non bisogna nella toraccia è scritto lo lista che è vietato guardare in faccia al malvagio perché emana negatività questa negatività ciao Rossella carissima questa negatività ciao a tutti scusate ciao carissima ha effetti sull'anima dunque ecco perché le case ebrei religiose noterete sempre che ci sono foto di del Rebbe di Babassale no di Zadikim e questo perché perché l'importanza di guardare il viso di un Zadik parlando del positivo e dunque evitate veramente di guardare il meno possibile tutto i video che adesso sono in circolazione guardate solo le cose positive quelle che fanno bene all'anima quelle che fanno bene al cuore quelle che danno coraggio e ci concentriamo il più possibile del tempo sulla tefilà sulla torata che questo andiamo sul sicuro quando Iacov viene a prendere le benedizioni dal padre Izzac questa è una delle benedizioni che Izzac gli dà che la voce la voce di Iacov come dice ma un attimo ma la voce mi sembra la voce di Iacov eppure palpando le mani sono le mani di Esav pelose no e allora poi invece i mefershim dicono non solo appunto diceva un attimo questa è la voce di Iacov ma anche e soprattutto spiritualmente la forza di Esav sta nelle mani nella violenza nella guerra ma la forza di Iacov sta nella voce della preghiera nella voce della tefilà nelle parole buone gentili uno verso l'altro nell'aiutare l'altro quando si dice aiutare a cominciare verbalmente no un un sorriso una parola gentile e e poi tutto il resto che possiamo e dobbiamo fare in questi momenti eh drammatici eh andiamo al venticinque di Tishrei eh che siamo dunque la Yom Yom allora abbiamo dieci melodie dicerebbe che alcune sono delle singole strofe che sono attribuite all'alterebbe composte proprio dall'alterebbe e allora un attimo un attimo ragazzi allora saluto anche Rachel da Padova Francesca da Milano e Vercelli e Rossella da Natania Michola anche da Natania i femmini un abbraccio fortissimo Michola a voi in Israele in particolare a Maester da Trieste a Rossella da Firenze a me da allora a tutti noi ai ai miei figli e a mia mamma tutti i miei parenti che sono in Israele vicini e lontani a tutto il popolo di Israele dove si trova perché siamo tutti un solo corpo un solo anima poi vi leggo brevemente delle parole del Rebbe ma questo dopo che ho concluso la Yom Yom che stavo appunto iniziando dove eh ci sono eh dieci melodie attribuite eh all'alterebbe cioè composte dall'alterebbe poi abbiamo eh altre attribuite al mit del Rebbe cioè il figlio del Rebbe dell'alterebbe che era suo successore ehm composte dunque ai suoi tempi cantati in sua presenza però appunto non composte da lui pardon non composte dal mit del Rebbe ma attribuite ma non composte il Rebbe aveva un gruppo di giovani dotati musicalmente Silvia Elisceva noti come eh cappella del mit del Rebbe cappelle del mit del Rebbe ed erano divisi in due gruppi allora il baleshir dunque i cantanti e i valets eh simrai musicisti che suonavano appunto diversi strumenti eh perché ricordarci questo perché e questo ve lo spiega meglio di me Rachel e Silvia Elisceva le nostre insegnanti in musica e laureate in musica che la musica voi sapete parlavamo di quello che vediamo come come ha effetto sull'anima dunque la vista ma anche il dito dunque la musica in questo caso eh Rifka forse la sono mettiti in muto carissima perché ci sono rumori di sottofondo grazie eh dunque come dicevo la musica ha un impatto molto molto forte sul rumore sull'anima ecco perché come spiegavano anche direbbe l'importanza di delle musiche che ascoltiamo che siano al Tahrta Kodesh composte perché eh appunto spiegherò una volta Rebbe che eh chi eh il compositore no della musica del 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 brano sia le parole sia sia la ehm sia la musica stessa eh hanno eh riflettono l'essenza della persona ecco perché è importante che la musica che ascoltiamo sia musica è composta da persone eh ebrei eh timorose di Dio eh pulite eccetera e perché poi come dicevamo appunto influisce sull'anima sull'umore e e quant'altro ehm volevo anche di leggervi eh una eh il Rebbe eh aveva mandato eh un attimo ah ecco René eh quasi quasi ciao René dicevamo che non potevamo senza i pilastri René tutto bene carissima Boker Tov Boker Or parlavamo della musica e delle melodie composte dall'alte Rebbe quelle attribuite al figlio dell'alte Rebbe Mitele Rebbe e l'importanza della musica e l'effetto che ha sulla nostra arma. Quello che volevo leggere prima di passare a Humash eh dai pensieri del Rebbe un pensiero veloce inoltrato eh nei gruppi allora noi eh dunque intanto potete già mentre vi leggo prendere pagina eh di eh undici del Humash Bereshit Parashat Bereshit di Moise Levi e io vi leggo dunque noi a Misrael siamo una sola persona con milioni di volti una sola anima che respira in milioni di corpi diversi. In ciascuno di noi c'è tutto a Misrael e ciò che fa uno influisce immediatamente su tutto il resto. Se uno cade inciampiamo tutti. Quando uno compie una mizvah tutti partecipiamo. Se uno soffre tutti condividiamo quel dolore. Quando uno gioisce tutti balliamo e cantiamo. Nessuno di noi direbbe mai all'altro tu vai pure nella tua strada e io per la mia. Perché ovunque tu vada porti un po' di me con te e dove vado io vieni anche tu. Dunque un bellissimo pensiero del Rebbe in questo momento particolare che stiamo vivendo con i nostri fratelli questo quello che stanno vivendo in Arezzo Israele. Infatti stavo pensando e nel mio piccolo dico siamo in lupo in questi giorni per le centinaia di eh centinaia di funerali che adesso ci sono in Israele per queste centinaia di Tzadikim che sono morti per perché dovete sapere che sia i soldati in guerra sia eh tutti coloro nel corso dei millenni che sono morti solo e soltanto per il fatto di essere ebrei sono considerati Tzadikim e vanno direttamente in Ganedi perché morire solo per il fatto di essere ebreo questo già eh da diciamo apre le porte dirette del Ganedi. Dunque abbiamo più di settecento anime che stanno salendo direttamente nel Ganeden e che chiedono ad Hashem di portare la Gheulà Pratite e Clalita tutto Amisraele a tutto il mondo Amin. Terza chiamata. Allora come dicevo siamo al capitolo due eh Pasuk 20 L'uomo assegnò nomi a tutto il bestiame agli uccelli del cielo e a tutte le bestie del campo Hashem li condusse davanti tutti gli animali a coppie ma per l'uomo ciò fu motivo di lamentela perché non aveva trovato un aiuto adeguato a lui in alcuno. Leggiamo il primo Pasuk insieme Allora cosa vediamo? Cosa ci spiega Rashi? Che quando Hashem conduceva gli animali davanti all'uomo condiceva in coppia dunque maschio e femmina per ciascuna specie. A quel punto l'uomo disse un attimo ciascuno di questi è un suo compagno ma io non ho una compagna. Al che immediatamente dice Rashi come appunto vedremo subito Hashem fece cadere un torpore sull'uomo. Qui il primo intervento di anestesia totale come mi piace chiamarlo sull'uomo fatto direttamente dal chirurgo number one che è Kadosh Barufu e dunque ok no allora no sto spiegando il 21 perdone per sbaglio per sbaglio sto facendo Rashi 21 ma tu hai letto solo il 20 scusa ti ho interrotto no no 21 fai anche il 21 perdone allora allora perché non vedesse quello che stava per fare Hashem il signore fece cadere un profondo sapore sopore nell'uomo che si addormentò egli tolse uno dei suoi lati e nel punto del taglio richiuse la carne al suo posto ecco proprio la Torah ci descrive proprio l'intervento no no perdono scusate oggi proprio riprendo riprendo 21 scusate allora come ho detto una delle sue costole dunque uno dei suoi lati perché questo termine no se la vuol dire sia costola che lato e per questo che i nostri rabbini hanno potuto dire che l'uomo fu creato con due facce e allora se andiamo al Talmud Masaket Barakot 61a Talmud Masaket Eruvin 18a allora vedremo che il Talmud riporta che c'è questa idea che l'uomo è stato creato con due facce perché come abbiamo visto qua due lati nel senso di due facce poi Hashem rinchiuse il luogo dove aveva inciso e qui sempre Masaket Eruvin 18a e si addormentò e prese allora perché agi così Hashem? in modo che l'uomo attenzione questo rascio importantissimo vedendo il pezzo di carne da cui era stata creata la donna non la prendesse in disprezzo e questo poi sviluppato nel Talmud di Masaket Eruvin 39a molto interessante dunque anche qui per dire l'importanza del rispetto della donna e per appunto non rischiare che dice ma dove è stata presa da quel pezzo di carne allora lo addormenta e non è perché come sapete c'è l'anestesia totale e l'anestesia locale due che io ho vissuto più volte due volte la totale e una volta la locale e quella locale si è completamente consci però in questo caso Hashem ha preferito un'anestesia totale di modo appunto che ci sia questo rispetto per la donna 22 vai fai allora tu arrivi finisci il pere però ogni passaggio ti fermi ok 22 sì Hashem il signore con il lato che aveva prelevato dall'uomo fabbricò la donna e la condusse all'uomo vai ven adonai lo ime tazze lascer la kachmina adam le isha vai evie e l'adam Nunquashem come dice Arashi costruì la donna come un edificio in che senso? larga di sotto e più stretta di sopra questo perché? per poter portare in grembo il bambino dunque la donna è simile a un magazzino di grano che è largo di sopra e più stretto di sotto di modo che il suo carico non pesi troppo sulle pareti come poi descritto nel dettaglio nel tabut Masahel Terahotze Santumano costruì la costola di modo che divenisse una donna ok? come anche da guidon ok allora vai a 23 l'uomo disse dopo aver cercato tra tutti gli animali questa volta l'ho trovato che è ossa delle mie ossa e carne della mia carne in ebraico che è la lingua usata nella creazione del mondo questa si chiamerà isha donna perché è stata tratta dall'ish uomo allora qui tenetevi forte ragazze molto importante allora questa volta allora due allora poi c'è il secondo punto però prima del secondo punto molto importante prima allora l'espressione questa volta cosa ci dice Rashi? ci insegna che Adam ricercò un compagno tra tutte le specie del bestiame e del fiere delle fiere perché abbiamo detto gli passano davanti femmina e masco di ogni specie animale da loro i nomi e poi dice anche io voglio un compagno e prova intimamente di accoppiarsi a ogni specie di animale ma non trova soddisfazione e questo riportato nel Talmudie Bamot da 63 anni a quel punto Hashem gli dà la donna e dice ah ecco questo sì dunque tra parentesi parliamo proprio ieri con con delle amiche delle conoscenti adesso che il mondo sta andando a rotoli totalmente a parte tutta la situazione in Israele anche questo concetto di gender fluid non sei donna ah sei donna no in realtà sei uomo non sei uomo no in realtà sei donna cioè non abbiamo proprio perso la bussola e invece no perché uomo uomo donna e donna e l'uomo deve accoppiarsi con la donna e solo con la donna e la Torah è molto esplicita dunque allora e come dice il Pasuk la donna si chiamerà Isha perché è stata presa dal Isha dunque abbiamo un gioco di parole e da qui impariamo che il mondo fu creato con la Shonna Kodesh e come riportato nel Nitarash Rabah cosa che abbiamo molto sviluppato se vi ricordate nei tre e di come Hashem ha creato il mondo con la parola ma quale parola quale lingua ovviamente la Shonna Kodesh e qui vediamo anche che dunque un'altra prova che il mondo è stato creato con la Shonna Kodesh 24 Pertanto un uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e nei figli e nei figli diverranno una sola carne Tante donne al mondo conoscono questo Pasuk a memoria soprattutto quando si hanno problemi con suocero suocero raccontami allora l'uomo abbandonerà al padre e madre si unirà alla Donka e diventeranno una sola carne dunque allora come dice Rashi come vedete in Rashi 24 questo spirito Kodesh sacro dice queste parole proibendo così anche ai figli di no vuol dire a tutti gli esseri umani quando si parla di figli di no vuol dire a tutti gli esseri umani le relazioni incestuose poi come riportato e sviluppato nel Tanud di Masaket Sanedrin 57b diverranno una sola carne cioè come sappiamo bene i figli sono formati da entrambi i genitori dunque è nel figlio che diventano una sola cosa dunque creando questa creatura che è l'insieme del papà e della mamma ultimo passur del capitolo 2 vai essi erano entrambi nudi l'uomo e sua moglie e non avendo in sé inclinazione al male non provavano vergogna ma la cosa suscettò l'interesse del serpente dunque quando furono creati l'uomo e la donna come dice non conoscevano cosa fosse d'ore da distinguere dal male e dal bene infatti Adam aveva ricevuto la conoscenza per poter dare i nomi a tutti di essere viventi come di fatto ha fatto abbiamo visto ma non aveva l'inclinazione al male finché non mangiò il frutto proibito dell'albero allora e solo allora l'inclinazione al male entrò in lui e imparò a distinguere il male e dal bene il bene e dal male e perché fino allora non c'era no c'era questa purezza e dunque non c'era questo senso di fiducia vai capitolo 3 da 1 a 4 arriviamo appunto al peccato della conoscenza il serpente era il più astuto tra tutte le messe del campo che l'eterio il signore aveva fatto adesso dopo averla vista in atteggiamento intimo con l'uomo neppe il desiderio e disse alla donna il signore vi ha forse detto non mangerete dal punaggio di giardino allora qui realizziamo un po' il nakash anche qua allora v'anakhash ayah arum kol chayat asade asher asad donah elohim vayomere la isha ach chiamare elohim lotto chlum mikol et zag gamm allora cosa cosa ci insegna al pasuk che il piano il piano del serpente che è la fonte del male come sappiamo allora serpente assili l'uomo e la donna mentre appunto erano in intimità ed è così no apertamente davanti a tutti e aveva appunto desiderato la donna come ricorda il midrash di Mreshitraba e adesso chi era il serpente noi pensiamo un serpente un animale che striscia ah no 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 era adottato di parola di arti superiori e inferiori e dunque era più astuta di tutte le bestie dunque la caduta di questo serpente fu corrispondente alla sua astuzia e alla sua grandezza dunque era il più astuto e poi vedremo più avanti appunto al pasuk quattordici quindi siamo al pasuk uno ma al pasuk quattordici vedremo la sua punizione dove sarà più astuto di tutti ma è più maledetto di tutti sarà il più maledetto e pone una domanda eh pone una domanda è vero che Hashem ha detto forse ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino allora cosa vede il serpente che l'uomo e la donna sempre rasci vi spiego mangiavano dei frutti di tutti gli alberi cosa fa inizia una conversazione lui desidera la donna però la donna non è sua c'ha un marito allora ecco come parte la cosa conversazione con la donna di modo che lei risponde così ha l'opportunità di parlare dell'albero della conoscenza del male del bene e vediamo leggi 2-3 la donna risponde al serpente noi possiamo mangiare della frutta degli alberi del giardino ma a proposito della frutta dell'albero che si trova in mezzo al giardino il signore ha detto non ne mangerete e non dovrete nemmeno toccarlo così facendo non morirete è qui adesso vediamo prima leggiamo i psuchim allora allora tornate a pagina 9 tornate al passuk 17 capitolo 2 hashem allora 16 più esattamente disse di dell'ordino all'uomo dice tu puoi mangiare a piacimento da ogni albero ma dall'albero ti danno la conoscenza per distinguere ciò che viene male non ne mangerai punto perché nel giorno in cui mangerai di certo morirai non ne mangerai punto cosa vediamo cosa dice qui la donna hashem ci ha detto non ne mangerete e e non dovrete nemmeno toccare dunque abbiamo un'aggiunta abbiamo un'aggiunta la donna aggiunge si dice che la donna ti sciacca bince di burna a sarà cabince di burna e ti sciacca c'è di dieci forze della parola sono cadute nel mondo ne abbiamo prese nove noi donne purtroppo e qui cosa vediamo quella parola in più quella parola in più che lei aggiunge porterà al peccato capitale quel peccato che porterà all'essenza del male in questo mondo che prima di allora non c'era l'aver aggiunto quando non si può aggiungere anche nella Torah per esempio e lotto si ve lo dirà non si può aggiungere né togliere niente dalla Torah dunque è molto importante attenersi ok perché il fatto che lei dice non toccherete cosa che in realtà hashem non ha detto come vedremo subito cosa fa il sperpente la spinge lei tocca dice vedi hai toccato e non sei morta come hai toccato e non sei morta così anche mangiando non morirai dunque lei lui ha saputo come prenderla con la parola ma lei anche ha fatto l'errore della giunta allora dunque aggiunse queste parole al comando di hashem perciò fu indotta a venir meno e come appunto è scritto nei proverbi 36 non aggiungere nulla alle sue parole ok passo 4 perfetto sì vai facendo la controllata voi dice la donna voi notare che non morirete affatto piuttosto avendone lui stesso mangiato il Signore a voi ha detto di farlo perché sapete che il giorno in cui ne mangerete gli occhi vi si apriranno e diventerete come il Signore creatore di ogni e saprete distinguere a ciò che è bene e male allora ancora una volta quando si parla di lascionarà esempio è sempre il serpente con la lingua di forcuta ecco ecco qui la fonte di tutto cosa dice fai dei ragionamenti come adesso per esempio non solo adesso ma da da quando esistiamo come popolo e negli ultimi 70 erotti anni che abbiamo Eretz Israel tutti i nostri nemici hanno degli argomentazioni per giustificare l'ingiustificabile cioè l'odio verso Israele e verso gli ebrei e qui vediamo tutto tramite la parola cosa dice prima cosa hai toccato punto due ma voi non avete non hai capito voi non avete capito Hashè è un creatore dei mondi cosa fa ha paura che se voi anche mangerete dell'albero appunto della conoscenza sarete a suo livello anche voi potrete creare mondi e li farete concorrenza dunque voi siete una minaccia e dunque per impedire impedirvi in questo caso di diciamo eguagliarlo ecco che vi vieta di mangiare questo questo frutto e cosa fa dice che morirete così avete paura di farlo cioè terribile no questo ragionamento allora 4 e 5 dunque il serpente come abbiamo detto la fa toccare e dice ogni artigiano proprio da questo esempio dice ogni artigiano detesta quelli che fanno il suo stesso mestiere dunque Hashè tra virgolette ha mangiato dell'albero e ha creato il mondo secondo Bresci Trabà e dunque se mangiate anche voi diventerete creatori dei mondi allora questo è il ragionamento che fa che fa Nakhash sei appunto convinta la donna convinta delle parole del serpente dice che l'albero era buono come cibo per diventare divini gradito per far aprire gli occhi e che l'albero era desiderabile come mezzo per acquisire conoscenza del bene e del male prese quindi il suo frutto ne mangiò e ne gede un po' anche agli animali e per non morire eventualmente solo lei ne gede anche a tuo marito che era con lei ed egli lo mangiò allora qui vediamo la donna tremendina cioè vai se già devo morire che mori anche lui che così non si sposa con un'altra allora Pasuk 6 allora cosa vediamo qua donna vide le parole del serpente dunque si fece convincere le piaccero e credette in lui e vide che l'albero era buono nel senso per farla diventare tra virgolette come Hashem poi ne diede al marito perché non morisse da sola e suo marito come vi ho detto restasse in vita per prendersi un'altra moglie come vi ho già accennato Brexit e quando dice ne diede anche a suo marito cos'è questo anche per includere appunto bestiame fiere dunque non solo al marito ma anche al bestiame se devo morire io muoiano tutti con me e comunque e soprattutto il marito Pasuk 7 allora gli occhi dell'intelletto continuo grazie mille René di entrambi si aprirono si resero conto che erano rimasti nudi e qui la forza del male che arriva nel mondo fino adesso il fatto di essere nudi non diciamo non era nessun problema diciamo per loro perché appunto erano puri puliti non c'era nessun aria con sé dunque rimangono nudi sia fisicamente e dunque vedono che c'è un problema ma anche soprattutto nudi nel senso privi dell'unica mitzvah ricevuta da Hashem cucirono delle foglie di fico che avevano mangiato si fecero delle cinture per i fianchi in realtà poi vedremo che anche Hashem allora allora il passuk la Torah parla in riferimento dunque si aprirono gli occhi in che senso agli occhi della mente e non alla vista no propriamente detta e infatti alla fine del passuk è scritto conobbero che erano nudi cioè si realizzarono che erano nudi e dunque e se parliamo di vista anche un nudo senza che non ha la vista e non vede sa di essere nudo dunque significa che avevano ricevuto un solo comandamento da Hashem e ne sono rimati spogliati dunque nudi spogliati dal primo comandamento questo Bereshitrabah dunque disobbedendo all'unico comandamento ricevuto da Hashem l'uomo e la donna si erano privati del merito e della gloria che la sua osservanza avrebbe comportato e adesso foglie di fico questo è l'albero di cui avevano mangiato allora noi nella toda diciamo globale si parla della mela no mela proprio non c'è della toda se già fico se già si parla poi la mara c'è una discussione appunto qual era il frutto però quello riportato da Rashi riconosciuto da Rashi come il frutto proibito era il figlio perché come dice l'albero di cui avevano mangiato dunque ciò che aveva causato la loro rovina apportò loro anche il rimedio ma gli altri alberi di Cerasci impedirono loro di prendere le loro foglie attenzione per quale motivo la Torah non indica chiaramente il nome dell'albero punto di domanda perché Kadosh Barofu non desidera umiliare nessuna delle sue creature allora prima cosa fa Shem prende la costola il lato dell'uomo lato costola e fa l'anestesia totale di modo che la donna non venga umiliata dall'uomo ma non solo non umilia gli esseri umani ma per Hashem ogni creatura ha la sua importanza e nessuna creatura può essere e deve essere umiliata e dunque come vediamo qua se Hashem avrebbe svelato il qual era l'albero allora gli uomini coprirebbero di vergogna quest'albero dicendo questo è l'albero a causa del quale il mondo è stato colpito come riporta Midrash Arfuma ecco perché non è precisato nella Torah quale albero molto importante questo ok udirono adame Chabà la voce di Hashem che avanzava nel giardino dell'Eden nella direzione del sole quando tramonta ogni giorno l'uomo insieme alla moglie si nascosero da Hashem in mezzo agli altri dirigenti ci sono tantissimi Midrashim a questo proposito che udirono la voce di Hashem riportati nei versi trabà e in altre con comunque raccolte Midrash però dice Rashi io mi occupo solo del senso letterale questa è una regola generica molto importante da sapere come dice Rashi vedete Rashi 8 guardate anche nel Rashi 8 io mi occupo solo del senso letterale questa è una regola di Rashi e di quella che definisce il senso delle parole del Pasuk così che ogni parola è spiegata nel modo corretto questo abbiamo il principio di Rashi dunque udirono Rashi pone la domanda dice che cosa udirono il rumore di Akkadosh fu che passeggiava nel giardino nell'Eden nella direzione del giorno cioè nella direzione in cui va il sole sarebbe l'occidente infatti verso sera il sole il sole si trova occidente e l'uomo e la donna avevano commesso la loro colpa alla decima ora che corrisponde alle ore 16 come riportato nel Talmud di Masa Sanedrin 38B questo era il momento in cui avevano peccato Pasuk 9 Hashem nostro Dio chiamò l'uomo e per iniziare la conversazione gli disse dove ti trovi allora dove sei ma un attimo Hashem non sa dove era Adam Hashem che sa tutto allora Hashem ovviamente sapeva dove era ma lo chiamò per entrare in conversazione di modo che non fosse confuso nel rispondere perché se Hashem avesse dovuto annunciarli bruscamente la sua pronunzione poi sarebbe stato troppo dura lo vediamo anche più tardi quando dopo che Cain uccide Hevel Hashem pone la domanda a Cain dov'è Hevel tuo fratello nel capitolo 4 Pasuk 1 e anche con Bilam quando va a maledire o sperando di maledire le popole ebrite dice chi Hashem pone chi sono questi uomini che sono con te Bamidbar 22 9 dunque perché Hashem agì così in tutti questi casi per entrare in conversazione con loro e così anche nel caso di Hezker a proposito dei messaggeri di Merodach Baladan in Ishaia 39 3 perché non potevamo non ricordare Ishaia anche in Fumash allora 9 allora 10 11 Adam le rispose ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché sono nudo e quindi mi sono nascosto e Hashem mi disse ma chi ti ha detto che è una vergogna essere nudo hai forse mangiato i frutti dell'albero del quale ti avevo ordinato di non mangiare per caso un punto di domanda dunque da dove ti è venuta la conoscenza che è una vergogna star mudo dunque come si dice domanda retorica hai forse mangiato dell'albero 12 e Hashem l'uomo rispose è stata la donna che proprio tu mi hai messo accanto che mi ha dato un frutto dall'albero e io l'ho mangiato per chi si ponesse la domanda a proposito della mancanza di riconoscenza dell'uomo maschio eccola qua l'origine non tutti per fortuna però allora dunque negò qui la bontà di Hashem fu il contrario di riconoscente come lo sviluppa il masachet da Zara 5b invece di dice ah no è colpa tua Hashem che mi hai dato la donna è lei che mi ha fatto mi ha fatto pecare uno mancanza di riconoscenza e due addossare la colpa anche questo molto tipica dell'uomo no è colpa tua moglie è colpa tua donna è colpa tua eh no eh no figlioli allora ehm vai o meradama di riconoscenza di riconoscenza dissi senza preamboli perché dalla dall'uomo e dalla donna c'erano i preamboli ma non dal serpente e vedremo anche perché dal momento che hai fatto ciò sii maledetto più di tutte le bestie cosa abbiamo visto prima? l'animale più astuto di tutte le bestie e qui vi ho detto capitolo 3 passo 14 punizione più di tutti anche più astuto di tutti più maledetto di tutti e più di tutti gli animali del campo andrai d'ora in poi senza gambe come vi ho detto prima perché era dotato di arti inferiori superiori e adesso niente comunque striscerai sul tuo ventre qualsiasi cosa mangerai avrà sapore di polvere tutti i giorni della tua vita allora 14 allora da qui impariamo un altro principio importantissimo che ci riporta Rashi che non dobbiamo occuparci di quanto può giocare a favore di chi incita al peccato cioè un conto al peccatore molto grave ogni peccato che commettiamo ma chi incita al peccato non deve essere interpellato come abbiamo visto qua no senza preamboli perché chi incita al peccato non è giustificabile e perdonabile infatti se Hashem avesse chiesto al serpente perché hai fatto questo avrebbe potuto rispondere quando le parole del maestro e quelle del discepolo sono traditorie chi si deve obbedire ma se che c'è 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 questo tempio questo rascià serpente ha pretesti come fanno tutti gli empi se io Hashem mi parlo mi risponderà tu hai dato loro un ordine io ho dato loro un ordine perché loro hanno trascurato il tuo comandamento e seguito il mio allora Hashem tali ho corto con il serpente e mise direttamente la sentenza allora vediamo Rashan che riporta maledetto più di tutte le veste che il periodo di gestazione del serpente è di sette anni questo riportato dal massacre del racconto 8a e dunque secondo questa interpretazione la maledizione inflitta al serpente consiste come nel caso della donna in un inaspirimento del dolore della gravidanza e come vi ho detto aveva i piedi ma li furono tagliati via e quindici poiché volevi sedurre la donna susciterò ostilità tra te e la donna tra due discendenze e la sua discendenza e l'uomo ti schiaccerà la testa e tu sibilerai nel mordere lui al cancan al cancan dunque tu volevi in realtà cos'era il progetto primo del serpente in realtà lui voleva che Adam morisse di modo che lui la donna che aveva diserterato intimamente potesse averla dunque tu volevi che solo Adam morisse mangiando per primo del frutto di modo di prenderti come dice Rashi e sei andato prima a parlare con Rashi perché le donne sono facili da sedurre e sanno poi sedurre i loro mariti ecco perché la punizione dice Hashem io porò in nemicizia tra te e la donna e soffrirai Hashem disse al serpente siccome perderai la statura potrai colpire l'uomo solo al cancan ma anche lai potrai ucciderlo come ben sappiamo purtroppo che il serpente che è morte col suo veleno è il risultato ok dunque andiamo passuk sedici questo per quanto riguarda il serpente e vediamo la punizione della donna dunque e va quindici Ashi Ben Chau Ben Chau Ben Zara Chau Ben Zara a cui Esho Harosh per Tate Esho Figo donna sedici alla donna Hashem disse accrescerò enormemente il tuo affanno nell'allevare figli che hai già e la tua pena nella futura gravidanza e purtroppo in gran parte delle donne questa maledizione si è avverrà posso dirlo anche su di me alla grande gravidanza parto post parto ok partorirai figli con dolore il tuo desiderio di unione sarà rivolto al tuo marito mentre lui dominerà in questo aspetto su di te è la Isshama e qui abbiamo un punto molto importante dunque la maledizione come precisa Rashi è la fatica di allevare i figli la fatica della gestazione la fatica del parto e a proposito del rapporto sessuale tu non avverrai l'impudenza di esprimere il tuo desiderio e lui ti dominerà infatti per chi non sapesse nelle halakhot di tarata mishpachah c'è il divieto assoluto dalla donna il rispetto verso la donna sottolineiamo di chiedere anche se desidera intimamente il proprio marito anche dopo il migve essendo pure eccetera non ha il diritto di chiederlo esplicitamente ma deve farglielo capire con un indumento particolarmente attraente un modo di truccarsi di dire di fare ma non esplicitamente 17 Tov all'uomo disse siccome hai dato ascolto la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero con lo sposito il quale ti avevo ordinato non ne devi mangiare a caposa tu il suolo da quale sei stato tratto perché l'uomo è stato creato dal suolo ora sarà maledetto producendo insetti disgustosi per tutti i giorni della tua vita mangerai del suo prodotto con affanno e fatica dunque questa è la maledizione dell'uomo e dunque la terra produrrà esseri maledetti dunque mosche pulci formiche cisa rashi riportando al presci trabà dunque e dice paragonabile al caso di chi imbocca la brutta via e la gente maledice i seni a cui maledice i seni dai quali ha succhiato dunque tu sei stato creato dalla terra e per via di questo tuo comportamento bravissimo questo peccato allora anche la terra 18 quando seminerai e vado avanti fino al 21 quando seminerai insieme al raccolto cresceranno frutti che hanno spine e cardi mangerai quelli e altre rete del campo che richiedono una lunga preparazione per potervi consumare mangerai faticosamente il pane prodotto con il sudore del tuo volto fino a quando tornerai alla terra dalla quale sei stato tra perché sei stato creato dalla polvere e alla polvere ritornerai l'uomo segnò un nome anche a sua moglie Havà Eva perché fu la madre Havà Chai madre che diede vita a tutti di essere viviti Hashem fece per Adam e per Havà delle tuniche di pelle e li visti e qui come dicevo l'altro giorno vi riportavo l'agmara che dice che la Torah incomincia con un milut con il fare del bene di Hashem e conclude col fare del bene di Hashem e la prima cosa che vediamo in cosa Hashem fece del bene rivestì come abbiamo visto in questo in questo passuc loro in modo istintivo presero le foglie di fico per coprirsi nell'immediato però chi li rivestì di tuniche era poi Hashem allora riprendo da 18 qui è anche il divieto per noi ebrei della come si chiama in bruciare il corpo mi sfugge il termine non in no cioè incenerire 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 ma c'è un altro termine che è un altro termine la cremazione grazie Francesca non so non ci arriviamo stamattina dunque è molto vietato perché ecco qui vediamo affarata della farasciutta sei preso dalla terra e dalla terra devi tornare ok dunque concludiamo leggere il suchim vaikra adam shem ishtochavati yaita empolchai vaes adonallohim adam ulishto kutnot e qui dunque si conclude la parte 21 le tuniche erano come l'unghia dice rashi lisce e aderenti alla pelle dell'uomo e della donna questo secondo midrash no bereshit trabà e massacra 14 a secondo invece un'altra agadà le tuniche erano fatte di materiale proveniente dalla pelle come il pelo per esempio delle lepri che è soffice e caldo e con esso fece delle tuniche all'uomo e alla donna cioè fece ovviamente è kadosh baron allora questi giorni come notate abbiamo su kimerashi abbastanza importanti e lunghi così la parasha di bereshit ieri addirittura abbiamo fatto il doppio dunque veramente era lungo e complesso arriviamo ragazze al tania allora un attimo eccoci al tania allora pere che allora siamo mi hanno detto al 25 ah si ho capito si va bene allora pagina 275 capitolo 25 di righieri da kodesh non tutto il capitolo ma fino a metà di pagina 276 allora ve lo leggo velocemente le avvini mrebinam maschiatube seferan ikra zava allora abbiamo un attimo qui alzava come sapete è la quando si scrive prima di morire una una oddio cosa oggi ecco non lo so cosa oggi prima di morire cosa si scrive un testamento 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 si tranquilla tranquilla va bene va bene ok dunque qui parla del testamento di rabbi israel valshem tov dunque questo libro che è chiamato il testamento di rabbi israel balshem tov che è il fondatore e l'ideatore della chassidut in realtà non era veramente il suo testamento dunque non ha veramente comandato tra virgolette prima della sua morte però sono diciamo una raccolta delle sue parole sacre che sono state raccolte dunque però comunque l'intenzione è veramente quella giusta e qui oggi parla di un concetto importantissimo e di base che parla che però non so se c'è un essere umano a parte i tzadikim che non sono caduti in questo grave peccato e errore che è la rabbia allora che colui che si arrabbia è come se praticasse l'idolatria niente poco di meno e lo spiega come l'idolatria è il peccato capitale per antonomasia dunque come possiamo paragonare la rabbia umana allora dice qui molto semplice e dunque il motivo è che coloro che conoscono la binah a proposito di sanno che nel momento della rabbia la fede si distacca dalla persona perché se veramente credeva che tutto viene da Hashem non avrebbe mai motivo di arrabbiarsi perché torto la persona che fa del mare che maledice che insulta che fa il torto a libero di non fare del mare dunque la persona che ti fa del male che ha libero questa persona verrà punita perché tra la scelta del bene e del male ha scelto di fare del male ma malgrado ciò colui che viene dunque la vittima ok c'è il colpevole c'è la vittima la vittima però la vittima in realtà è già stato prescritto dunque emessa questa sentenza tra virgolette dal cielo che questa persona questa vittima deve subire un'offesa deve subire una perdita di soldi deve subire quello che deve subire e ci sono tanti messaggeri da scelta dunque se quando ci succede qualcosa di male cioè qualcuno ci insulta ci fa del male noi non dobbiamo concentrarsi su chi ci ha fatto del male perché lui essere umano ci ha fatto questo torto ma perché io Sara ho dovuto subire questo torto avrò mica fatto un errore avrò mica fatto un appiccato in questa vita nelle altre vite precedenti e Hashem nella sua immensa bontà mi vuole purificare elevare e tramite questa prova e questa sofferenza mi ripulisce dai miei peccati ed è quello che dobbiamo pensare e ringraziare addirittura Hashem per le sofferenze dunque allora questo adesso come lo come lo ve l'ho spiegato io adesso come lo spiega la chassidut cosa dice nel momento in cui quest'essere umano si sta facendo del male in quel momento la persona è viva perché se non fosse viva porterebbe a fare di male questa vita che lui ha da chi la riceve dalla forza della bocca di Hashem che gli dà la vita mentre la e qui il barlatà mi apporta un esempio classico fantastico della storia di Davide Melech allora torniamo a Davide Melech dove un giorno viene maledetto lui che era re e quando il suo se non ero il suo generale ha voluto vendicare il suo re Davide dice lascia che vado che lo ammazzo quello come si permette di maledire il re cosa risponde Davide Melech Hashem amarlo a lei Hashem è detto di maledire no scusate dove come qua di Davide Melech quando ha detto Hashem ha detto lo calde vichan amare le shimei quello che lo avea madedetto che ma va shimei dice non che ha detto ma le di di davide dice no ila che ma schabba che che la le 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 Dunque come si spiega? Si mi adesso è vivo? Mi sta maledendo? Chi gli sta dando la vita? Se è vivo è perché Hashem gli ha dato la vita. Dunque Hashem gli ha dato la vita, ovviamente lui ha fatto la scelta sbagliata, però Hashem gli ha dato la vita e Hashem lo sta dando la vita e dunque ha la possibilità di maledire. Cosa succede però prima di morire? Prima di morire Davide Amèle, che viene, che è che succede come sappiamo Davide Amèle, è il figlio Shlomo. Lì Davide Amèle dice vendica la mia vendetta. Allora, in quanto Davide persona, devo accettare questa maledizione, l'accetto come volontà divina, come prova per ripulirmi, come vi dicevo prima, dai miei peccati e volontà di accettare. Come re però, come re, tu figlio mio sei. Primo io sono tuo padre, dunque devi tenere all'onore di tuo padre, in più sono re. Dunque non rispetto alla persona Davide, questa è la reazione, come ho reagito e così dovevo reagire. Tu però figlio mio, io in quanto tuo padre, hanno maledetto tuo padre e il re. E visto che è vietato nella Torah di maledire un re, dunque tu devi attuare la volontà divina di Hashem, dunque che non si maledisca un re, e dunque vendica la mia re. Molto interessante tutto questo. Dunque non potevo saltare tante di oggi, concludiamo. Concludiamo, ragazze fantastiche siete. Mi emozionate. Che pere siamo? Lo sai già. Oggi ne abbiamo 25 di Gisri e andiamo al pere 119 nel Pasuk, da 1 a 96. Comprese. Fantastica. Allora, leggiamo almeno la prima parte. Felicità le persone rette che seguono l'insegnamento di Hashem. Esheri temimèr d'arecha hulichim vittorat Adonai, Esheri nuzri adotav v'chole v'idrishu. Af lo fa'alua v'lavu v'adrachav v'alachu. Atatat civit av'ikudich ha nishmur maud. Echalei ikonu v'adrachai nishmur v'okich ha az'lohevosh v'habiti al kol m'itzvotich ha. Odcha v'yoshar l'avev v'lumidi mishpettiz v'akich ha et v'okich ha yishmur al t'azvinia ad mea. Baruchatka adunale Scusate ma dovevo avere un attimino mancava l' Allora come vi dicevo anche stamattina nel gruppo chi può entrare l'eskut Erezisraeli tutti i nostri fratelli in tutto il mondo anche per qualche minuto poi come ieri come oggi le lezioni sono più lunghe ovviamente chi deve andare a lavoro ci mancherebbe però io ci tengo a fare anche il mio sforzo e dunque anche se di solito no concludiamo anche un po' prima però ecco che perché ieri ho letto anche tutto il Teilim perché e soprattutto il Teilim che sappiamo a proposito da Vida Mele a proposito del Teilim che come diceva nell'Iom Yom che avevamo studiato a suo tempo che se sapessimo l'importanza del Teilim passeremmo la giornata tutta la giornata a leggere il Teilim in questi momenti di guerra e una guerra atroce che potrebbe io non voglio apportare anche a tanto altro che non diciamo allora la lettura del Teilim in genere in privato e in pubblico in gruppo ha una valenza mille volte più grande ecco perché dunque ci tengo allora sono al Pasuk 6 del capitolo 119 no perdon Pasuk 9 del 119 lettera P che non ovviamente mentre noi pensiamo tutti i nostri soldati che stanno rischiando rischiando la vita e dir poco figli delle nostre sorelle a tutti i civili che anche in casa riscono la vita a tutto a Misrael che Hashem ci protegga a Menken Yeratzon merito del Tenim, merito della Tfilah merito della Torah che con sforzo stiamo studiando in questi momenti in tutto il mondo e la Tfilah e Allora, mi dice che la batteria è quasi scarica, però finché ce l'abbiamo andiamo avanti. Zichor davar l'avodich, zichor davar l'avodich, alasher yichaltani, zot nechamati v'oni, ki meratechichi a'te'ani, zadim hailitsuni ad m'od, b'nittoratechka loonatiti, zakharti mishpattika maolam edoni v'etnicham. «Zal'apà chazatni mer-saiim, ozbe turetika, zmiro di li chukkika bebet megurei, zekarti vallai la shemcha, edoni, v'ashemera turetika». «Zot haitah li, ki chikudika nazzar». Letter ha chet. «Chiliki, edoni, amarti v'ashemore d'evarecha, chiliti f'anika v'cholèv, v'choneni k'emratika, chishabti d'rachai v'ashiva r'aglii al el-edotika, chashti, v'la hittemahemati v'ashemore m'itzvotika, chablii r'ashem evduni, turetika lo shekhati, chacot l'aila akum להודות l'ach al mashupetetikika, chaber ani l'chol asher n'raucha u'l'somere p'kudika, chazdecha, edoni, amal'a aritz u'kecha l'mdi. Letter ha t't. T'ovassita im'vedecha, edoni, ki d'varecha. T'ov, ta'am v'adat l'mdi, ki v'm'itzvotika, haemmati. T'rem a'ne, anishogeg, v'ata, im'radcha shemak. T'ov ata u'mitiv lamdi ni chukhecha, t'apalu alai shakher zidim, ani b'chol lev et tsor p'kudika. T'avashka chalav n'bam, ani turetika shi'asha. T'ovli chiyoniti, limaan en mat chukhecha. T'ovli turetika, me'alfe zav v'chesev. T'ovli t'ovli t'orat p'kha, me'alfe zav v'chesev. T'ovli t'ovli t'orat p'kha, me'alfe zav v'chesev. Yud. Yedekha suni v'yichunenuni, avineni in belmeda מצvotika, yerecha yiru'uni, v'yisemeku kili d'varcha yichalpi. Yedat, yedonai, ki cedek mishpatecha, v'emunai nitan. Yehina chazdecha l'nachameni, k'amratcha l'abdecha. Yibu'uni rachamecha v'achye, ki turetcha shashu'ai. Yibu'ushu zedin ki shakir yivetuni, aniyasihach b'fikudcha, yashuvu li yerecha v'yodadotcha, yehili b'itamim v'chukcha, lemaan lo yibu'ush. L'ultima letra d'yogi, letra hacha. Kaltta li t'chua'tcha n'avshili, d'varka hichalpi, kalu'i nahi l'yemratcha l'mor, matai t'enachameni. Ki haiti kenod v'kitor, chukcha lo shakhchati. Kama yimi avdecha, matai t'asseberot faymishpah. Karuli zedim shichot asherloche toratecha, kolmitzvotecha imuna, shekere dafuni ozrenu, kim atkiluni vaaretz v'an. Lo azafti fikudecha. Mi hanno quasi tolto dal mondo, ma io non ho abbandonato i tuoi comandamenti. Ci vogliono togliere dal mondo, ma non succederà mai. E questo perché noi non abbandoneremo mai i comandamenti di Hashem. Scusate, no? C'era anche l'alamo. Oggi proprio. Vabbè. L'alamo, scusate. Ultima lettera di oggi, che è l'alamo. Ma chaf, pardon. Le'olam Adonai d'varcha nitzav v'ashamai, me l'abbiamo ripetito tredici volte. L'alamo, scusate. contemplato e assorbito i tuoi statuti. L'alamo, scusate. 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 Ieri in questa serata straordinaria a Milano e dove abbiamo letto i telim con Rava Rashi, dove abbiamo, ci sono stati diversi interventi molto toccanti, importanti, quindi verso la fine c'era Orazio, questa persona speciale e unica che da decenni lavora nella scuola ebraica e che era detto alla parte tecnica, dove mostrava il grande esterno, i telimiti da leggere tutti insieme, eccetera. Verso la fine, per sbaglio, lo metto fra mille virgolette, è apparsa la foto del Rebbe, che presto Melech HaMashiach si riveli a tutti noi e porti la Ghiulà Clalitvet, tra parentesi, visto che ogni giorno ricordiamo Rebbe. Concludiamo con la moglie del Rebbe, la Rabbanit, che come sappiamo appunto, vi avevo già spiegato, non la Rabbanit non hanno lasciato fiddi, ma tutto in Israele siamo in sui loro fiddi, anche nel Rebbe, anche nel Rebbe, che ci sono conviene all'anno, di cui sono le amiche all'epoca e contengono, di cui sottolineo per me, spiegato alle noi e guberto all'epoca, e qui sia le amici, ragazze non ho parole grazie a questi sforzi in mani che state facendo questi giorni con lezioni non di tre quarti d'ora ma di un'ora e mezza quasi dunque quasi il doppio che Hashem vi porta doppia barachà, doppia a voi a tutte le vostre famiglie, a tutto il popolo ebraico e che questi sforzi siano considerati come sacrifici sul misbeach del Bet Amitash che Hashem ci porterà molto presto un abbraccio fortissimo a tutti voi forza e coraggio cerchiamo di non lasciarci andare in questi momenti drammatici ma di comunque stare Besimcha concentrarci il più possibile nella positività pregando studiando dando tzedakah aiutando chi possiamo aiutare a mantenere razza un abbraccio a tutti voi grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori